Quelle che ci sono rientrano Chiellini a disposizione, Di Balla e Bernardeschi. Comunque sono tre rientri importanti perché speriamo di risolvere i 90 minuti, altrimenti c'è bisogno di 120 e comunque i cambi domani diventano determinanti, diventano importanti. Poi comunque sia Chiellini che Di Balla e Bernardeschi non hanno i 90 minuti delle gambe, quindi possono essere cambi ottimi. Morata deve essere sempre piccoloso in attacco, deve fare gol, quindi Morata deve fare gol come deve fare gol Vlaovic, quindi Morata poi, ripeto, con Vlaovic vicino è uno che più gira per il campo, poi in un buon momento anche a livello mentale, quindi sono contento, però sta facendo molto bene Ken, gli altri stiamo tutti bene, quindi siamo pronti per giocare questa partita, poi c'è anche un pizzico di fortuna per passare il turno.